Vuoi acquistare crediti o FIFA coins a prezzi bassissimi? Allora passa da golda.com con il link in descrizione e in più con il codice Justiz avrai un ulteriore sconto Buona prima ragazzi, qui è Justiz e oggi siamo tornati con questo nuovissimo video Oggi faremo le nuovissime sfide Creazione Rosa tutte e due, quindi ve le faccio vedere quelle là che hanno messo da poco questa, Introduzione Rosa e Miste e poi facciamo questa qui che è molto complicata campionati nazionalità miste e in più apriremo 4 pacchetti IF che mi sono tenuto da quando c'erano le Scott Billing Challenge l'IF garantito per questo nuovo Team of the Week in cui troviamo giocatori a dir poco buggati in primis Nainggolan che dalle stats è praticamente quasi uguale se non meglio di Gullit, quindi sarebbe tantissima roba a trovarlo la casetta, anche lo stesso Onzonzi non è niente male poi abbiamo in panchina niente di spettacolare abbiamo Silva che comunque è Ligan, non la uso tantissimo dell'introduzione della semista e ancora devo farle le altre già me le sono preparate perché ovviamente erano più difficili ma queste penso siano abbastanza facili campionati esattamente due, giocatori del stesso campionato sì, praticamente qui possiamo usare anche tranquillamente i bronzoni inglesi ok, questa è praticamente la prima, è veramente molto molto semplice quindi fatevi l'iscrino ovviamente sia a questa che a tutte le altre andiamo a confermarla, facciamo la seconda che comunque penso sia comunque facile nazionalità esattamente tre, giocatore del stesso nazionale massimo quattro ok, vabbè, questa è comunque facile cerco di usare più bronzi e argento possibili così mi li levo anche da mezzo ok, la seconda pure l'abbiamo fatta andiamo a confermare e l'ho usato tutti i giocatori bronzo quindi è tanta roba allora, questi pacchetti sono tutti da due giocatori rari ci dà la divisa che sinceramente non mi fa impazzire questa qui vedisco l'altra quindi non la metterò e andiamo a conservarla e andiamo a fare l'altra l'altra che ovviamente è molto più difficile quindi me la sono preparata in anticipo proprio per non perdere troppo tempo allora, fate tutti gli skin vi premetto che questo è il metodo più economico che ho trovato per i giocatori che avevo io nel club perché in quasi tutte queste sfide qui serve la fedeltà quindi se non volete andarvi a quittare dieci partite dovete adattare le rose a seconda dei giocatori che avete nel club quindi magari quelle che ho fatto io prendetele come una sorta di modello tra virgolette e poi metteteci i giocatori che voi avete disponibili nel club che avete trovato nei pacchetti insomma, che hanno già la fedeltà perché a me non andava di andare a quittare dieci partite quindi comunque sono tutte molto ma molto economiche la prima è questa questa non penso serva a tutti la fedeltà le altre tre le ultime due sicuramente le altre tre la seconda non lo so esperto non lo so comunque esperto l'ho fatta così anche questa molto ma molto ma molto economica andiamo a confermare pure questa qui spero di non aver usato più giocatori cioè lo stesso giocatore più volte perché sennò mi rimane lo spazio vuoto ma non credo non credo comunque pure questa andiamo a confermare sono veramente cioè non sono facilissime però ti danno dei premi pazzeschi questa qua leggenda ci dà addirittura un pacchetto da 50.000 crediti quindi confermiamo tutto e andiamo a già aprire questi benedetti pacchi ci siamo presi anche un bel po' di crediti che non fanno mai male non ne ho tantissimi quindi tutto fa bro campionale della società miste maglietta fighissima che però al momento la vado a mettere ma penso che nella Wigan League la troverò la toglierò perché la gente appena vede che c'è una maglietta che ho scritto di esports pensa che tu sia il tipo il più forte al mondo e quindi non gioca però va bene questi sono dettagli allora abbiamo fatto anche un bel po' di pacchetti 10 pacchetti per la precisione di cui 4 sono IF garantiti purtroppo i premi della Wigan League non sono ancora disponibili quando sto registrando questo video cioè poco prima che voi lo vediate perché farò i salti mortali per metterlo non ho capito per quale motivo però li metteranno penso a breve anche se ho fatto solo argento 2 perché ho giocato pochissime partite per via dei todi eccetera eccetera quindi iniziamo dai pacchetti con 2 giocatori rari ovviamente per ultimi apriremo questi qua degli IF sarebbe il top trovare 9 go lan perché mi farei un sacco di crediti non penso di tenerlo magari lo proverò un po' ma ho già un angolano 84 che è una bestia l'87 sono ancora di più ma vale un botto almeno ieri sera valeva già un macello allora andiamo a vedere questi pacchetti ai 2 giocatori che penso siano scambiabili tra l'altro quindi non lo so vela comunque non ci interessa più di tanto non so se sono scambiabili sinceramente si sono anche scambiabili quindi buono ma vela non penso valga lo scartiamo per muoverci e per fare in fretta allora sono pacchetti veramente belli veramente belli infatti questi Skulls Billings Challenge sono quelle che convengono di più è buonissimo attenzione Marchisio ottimo che ho già non scambiabile quindi ce lo andiamo a vendere proprio in un lampo in un attimo e ci facciamo dei crediti veramente veramente ottimi addirittura 30 quasi 40k costa tanta roba ottimi pacchetti questi qui già 40k li abbiamo guadagnati quindi anche nel caso non trovassimo più nulla abbiamo fatto 40k che sono veramente tanta tanta roba lo metto a 38 più o meno per venderlo subito sono crediti ottimi e tanta 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 roba quindi abbiamo già iniziato alla grande allora andiamo a cercare il pacchetto giocatori oro che contiene un solo giocatore oro raro quindi non sarà penso il top infatti fa abbastanza cagare e S Turco una merda incredibile allora adesso abbiamo un pacchetto giocatori oro premium un pacchetto oro raro e un pacchetto da 50k e poi abbiamo tutti quelli degli if quindi li apriamo in questo ordine pacchetto giocatori oro premium non è walkout quindi già è abbastanza è una merda incredibile se è una merda ecco Maxime brutto brutto pacchetto allora usciamo ed entriamo nel negozio descripiamo un po' questa merda e apriamoci questo pacchetto oro raro da 25k con tutti rari non è walkout purtroppo ma può essere if e non lo è invece è una merda chi è? Calleon Calleon diciamo che Calleon forse si può usare nell'ultima Scott Billing Challenge dato che è spagnolo cioè almeno io avevo messo anche lui però vabbè insomma mille pacchetto da 50k mila crediti dammi subito un bel 9k così siamo a posto una bella leggenda sarebbe il massimo ma non penso accadrà tutto ciò perché è un pacchetto gratis e nei pacchetti gratis non si trova un cazzo vai apriamolo sembrava walkout per un attimo invece non lo è invece è una merda incredibile avevo detto bene un 83 Williams almeno un Kante o un Beyerin ci farebbe fare qualche credito sarebbe il top 2300 crediti vi sconsiglio di fare le squadre che trovate su internet di queste Scott Billing Challenge perché ovviamente quelle squadre le vedono tutti e quei giocatori automaticamente si alzano di prezzo anche Gibbs potrebbe valere in realtà perché si può usare anche lui mille vabbè mille e quattro dovrebbe andar via abbastanza facile magari anche Deer Dyer Deer il resto fa abbastanza schifo ora con gli if spero di trovare Nainggolan Nainggolan sarebbe il top o anche la casette che vorrei provarlo tantissimo vai primo pacchetto degli if non è walkout non so se Nainggolan è walkout quindi non disperiamo attenzione a di chi cazzo è chi è che è Medeiros che cazzo è sta merda 12 mamma mia che brutto giocatore lo vendo subito perché tanto non ci farei un cacchio vai secondo pacchetto non è walkout ma non so se Nainggolan è walkout attenzione vediamo chi è cc turco ah non è turco è una nazionale che non conosco ziyek mamma mia mamma mia che brutta cosa 12.000 pure lui ma che brutti pacchetti che brutti pacchetti almeno un po' di crediti ma cioè se conciamo così fanno abbastanza cacare cazzo dammi un bel ragione Nainggolan dai proprio così subito vai vai non è walkout andiamo a vedere chi è dai ti prego ti prego ti prego atti italiano borriello borriello mamma mia borriello ma ti pare che trovo borriello no look back vai ti prego ti prego ti prego ragione Nainggolan please please la casetta pure anche un zonzi mi va bene vai asenio mamma mia che brutti pacch mamma mia che brutti pacch non parla un cazzo penso a parte che stifo non valgono niente perché tutti hanno conservato i pacchetti ovviamente quindi torco due guarda quanti ce ne stanno sul mercato incredibile vanno 12.000 raga 12.000 è una merda meno male che ci ha salvato quelle marchi che ci ha fatto fare qualche critico sennò era veramente da suscitarsi sti pacchetti scandalosi scandalosi cazzo comunque noi ci vediamo alla prossima io vi ringrazio come sempre per la visione lasciate un mi piace e fatemi sapere chi avete trovato nei pacchetti delle Scott Billing Challenge che avete appena visto ci vediamo alla prossima ciao